Oltre 25.000 presenze per quel che riguarda i voli di linea all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi nel primo mese di attività. Dalla sua apertura sono stati migliaia i movimenti che hanno portato ad oltre 2.000 passeggeri tra imbarchi e sbarchi. Per quel che riguarda invece l'aviazione privata, sono i numeri sul traffico aereo di queste prime settimane, numeri raccolti e forniti dalla Filt CGL di Salerno attraverso un comunicato stampa a firma del segretario generale Gerardo Arpino e di quello del Dipartimento Trasporto Aereo Gianluca Petrone, comunicato che sottolinea come si tratti di un dato che supera le aspettative. Nel primo anno infatti di attività dello scalo aeroportuare di Salerno sarebbero previsti circa 200.000 passeggeri. Quanto emerge invece dalle prime quattro settimane di attività fa ipotizzare che i numeri potrebbero essere effettivamente più alti, oltre alle compagnie Ryanair, Isigette e Volotea negli ultimi giorni. Si aggiunta anche la compagnia Witzer con l'attivazione di nuove tratte in vista anche della stagione invernale, mentre, dice ancora la Filt CGL di Salerno, si resta in attesa dell'accordo con la compagnia di bandiera Ita Airways. Intanto si continua a lavorare per il miglioramento dei servizi, in particolare quello del trasporto, da e verso l'aeroporto Salerno Costa da Malfi, con l'apertura proprio in questi giorni del cantiere per il prolungamento della metropolitana che giungerà fino all'aeroporto, tra gli interventi infrastrutturali in corso d'opera. Intanto collegamenti in autobus verso lo scalo salernitano sono stati anche attivati per gli utenti della regione Basilicata.